Segui le istruzioni per prenotare il vaccino anti-COVID-19 in modo semplice. Per iniziare, prendi la tua tessera sanitaria e inserisci negli appositi campi il numero della tessera sanitaria e il tuo codice fiscale. Seleziona il consenso al trattamento dei tuoi dati personali. Clicca sulla voce Accedi per proseguire. Ora inserisci nel campo richiesto il tuo CAP per individuare il centro vaccinale più vicino a te. Successivamente inserisci il numero di cellulare su cui vorrai ricevere la conferma con i dati della prenotazione. Inserisci la tua data di nascita. Clicca ora su Cerca per proseguire. Il sistema ti mostrerà data, orario e indirizzo dei centri vaccinali disponibili per effettuare la vaccinazione. Scegli la data, l'orario e il centro vaccinale che preferisci e prosegui selezionando Conferma. Inserisci in questa pagina il codice che hai appena ricevuto sul numero di cellulare che hai indicato. Clicca su Conferma per proseguire. Ora visualizzerai tutti i dettagli della tua prenotazione, che riceverai anche via SMS sul tuo cellulare. Clicca su Stampa per avere la ricevuta della conferma di prenotazione e su Chiudi per terminare. Puoi prenotare il vaccino anti-COVID-19 su prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it Scopri di più su regione.lombardia.it Più siamo, prima vinciamo!